Ed ora la pagina sportiva, anche oggi aggiornamenti sul calciomercato, ci colleghiamo con Enrico Giancarli. Allora Enrico, quali sono le novità, o meglio, quali sono ancora le voci, le trattative che si susseguono in casa Bianca Azzurra del Pescara in questi giorni, in queste ore? Ciao Carmine, buon pomeriggio, naturalmente un saluto a te, un saluto agli amici che ci guardano in diretto. G8, notizia che vi possiamo dare, è che nel tardo pomeriggio di oggi il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, parlerà con il direttore del Bologna, due i nomi sul tavolo, quello del difensore Stivanello, operazione sostanzialmente chiusa, vanno definiti alcuni dettagli, soprattutto il nome di Kingsley, la mezzala ex Perugia, di proprietà appunto della Bologna, che è diventato il primo obiettivo dei Bianca Azzurri. Nel tardo pomeriggio di oggi, con la telefonata del presidente Sebastiani per cercare di accelerare le due operazioni. Sul centrocampista il Pescara non è solo su Kingsley, ci sono anche altri nomi sul tacquino del DS Dellicarri, il grande sogno è sempre Tribuzzi del Crotone, ma attualmente la formazione calabrese non vuole privarsi dell'ex Frosinone. Il Pescara farà comunque un ulteriore tentativo, anche con Tribuzzi. Quindi sono queste le operazioni che proverà a perfezionare la società Bianca Azzurra nel tardo pomeriggio di oggi. Sul nome di Ndoi è un nome molto suggestivo, ma difficilmente il giocatore che ha fatto molto bene in Serie B accetterà di scendere di categoria attualmente sotto contratto con il Brescia. A te Carmine!